Noi abbiamo un'opera d'arte all'interno dei palazzi, sia un'opera staccata a massello, ma soprattutto freschi come questo qui che in qualche modo sono la ragione della mostra, la ragione della mostra che è la città di Gubbio con le sue istituzioni politiche e con le immagini sacre che erano collegate a queste istituzioni politiche. Tra l'altro un affresco dovuto a un pittore che sarà il protagonista della sezione della mostra ospitata all'interno del Palazzo Ducale, perché in effetti la caratteristica di questa mostra è di avere i nomi dei pittori, cioè Oderisi o meglio Guido e poi Ecco Palmerino, Guiduccio Palmerucci e Mello, bello che è l'autore anche di questo affresco, per cui ecco abbiamo una mostra fatta di personaggi con una propria storia, con le proprie passioni.